Come evitare che il pappagallo rompa qualsiasi cosa in casa? Beh, c'è da dire che chi prende un pappagallo deve un po' mettere in considerazione questa cosa perché probabilmente accadrà e non ci potrete fare niente. Per i pappagalli rompere le cose è un passatempo molto divertente quindi quello che dobbiamo fare è sostituire questo passatempo con qualcosa di produttivo quindi in pratica non far annoiare il nostro pappagallo e tenerlo sempre occupato. Uno dei modi migliori naturalmente è l'addestramento con l'introduzione di un rinforzo positivo così il pappagallo sarà più interessante interagire con noi rispetto che andare in giro a rompere le cose. Quindi evitiamo i momenti di noia, evitiamo di lasciare il pappagallo libero ma da solo senza interagirsi perché se no lui troverà un suo passatempo e non sarà sicuramente piacevole per voi. Quindi tanto addestramento e tenete occupati i vostri pappagalli.